I pesaresi sono sicuramente protagonisti di una strategia, più i pesaresi sono accoglienti, più i pesaresi stanno dentro una strategia complessiva che la città si è data e più la città è attrattiva, è competitiva, questo è evidente. Ed è fondamentale questo appuntamento perché è l'occasione annuale per mettere in piedi una strategia comune, perché l'amministrazione pubblica può sicuramente spingere ma la differenza la fanno i privati, la fanno gli albergatori, i ristoratori, gli investitori, i tour operator, le agenzie di viaggio, quindi è chiaro che abbiamo bisogno di un momento di riflessione, a maggior ragione dopo la pandemia, nella quale escono alcune certezze e alcune novità. Le novità sono che le persone cercano maggiormente lo spazio e quindi dobbiamo essere determinate ad andare avanti con le isole pedonali, con un'organizzazione della spiaggia libera e anche in generale con la sostenibilità, con l'idea che Pesaro possa essere una città sostenibile, quindi avanti tutta con la bicicletta, con la bicipolitana, con la promozione del Parco San Bartolo, tutti elementi che vanno a rafforzare un elemento strategico che già avevamo. Così come dobbiamo riprendere l'elemento strategico legato alla musica e alla cultura, perché Pesaro città della musica, Pesaro città candidata a città italiana della cultura del 2024, dimostrano che Pesaro può diventare una delle città medie nella rete nazionale in grado di attrarre nuovi turisti, perché prima o poi gli stranieri torneranno e quindi lavorare sul tema della cultura è un elemento fatto qualche anno fa e che si rafforza ulteriormente con il post pandemia. Così come dobbiamo continuare a lavorare sui grandi eventi, perché Pesaro è una città che è fatta apposta per i grandi eventi, grazie alla Vitri Frigo Arena, grazie all'Auditorium Scavolini che finiremo nei prossimi mesi e grazie anche a tanti impianti sportivi che sono predisposti per questo. Quindi continueremo a candidare Pesaro per tante manifestazioni e a iniziare dalle final aid di febbraio che saranno sicuramente un momento di ripartenza importante, ovviamente con tutte le precauzioni che il Covid richiede. Quindi queste sono strategie confermate, così come a mio parere è confermato l'elemento di marketing legato alla motocicletta. Domenica Valentino farà l'ultima gara, ci accorgeremo ulteriormente quanta popolarità mondiale c'è intorno a lui, intorno alla motocicletta per questa terra ed è l'ulteriore dimostrazione che sul tema della terra dei piloti e dei motori possiamo costruire un pezzo di turismo e non è un caso che il governo ha scelto Pesaro come serie del Museo Nazionale della Motocicletta che nascerà all'ex tribunale in via San Francesco. Quindi alcune novità soprattutto legate allo spazio e alla sostenibilità e alcune conferme che ci devono far andare avanti determinati sperando davvero che ci possa essere un rimbalzo economico a partire dal turismo nei prossimi mesi, cosa che già in qualche modo si è vista da un'estate che comunque ha dato dei segnali molto positivi. Grazie